Questo è il giro della campana, gruppo compatto, questo è il giro della campana. L'ultimo giro, molto probabilmente ci sarà una volata. Ecco, questo è l'ultimo giro, molto probabilmente ci sarà una volata di gruppo, credo. Ecco che affrontano la curva, gruppo ancora compatto, nessuna che prende l'iniziativa. Ed è Silvia Trotti, Silvia Trotti a condurre il numero 608, felice! Ecco, si è conclusa la gara femminile, ha vinto Silvia Trotti. Questi sono gli uomini che fanno un giro di prova.